9.34 lo diciamo ogni tanto, ecco ricordiamo l'orario a beneficio di coloro i quali ci seguono in diretta e lo ricordiamo, saremo in replica anche nel primo pomeriggio e questa sera con il nostro Just Today. Lo vedo già inquadrato nel nostro LED, do il benvenuto al sindaco di Trento, Franco Ianeselli. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Trento, capitale italiana, europea e italiana del volontariato per il 2024, una battuta iniziale, come la città ha colto questa nomina? Noi trentini siamo, adesso va di moda questo termine underdog, quindi io devo dire che quando c'era stato proposto da dei volontari di candidarci a capitale europea a me sembrava quasi troppo perché occidenti siamo una città di medie dimensioni, però quello che mi convinceva e ci ha convinto è che al di là del risultato finale lo stesso processo di candidatura prevede incontri con le associazioni, prevede dibattiti, confronti, consapevolezza su quello che si è e allora ci siamo detti proviamoci. Alla fine siamo stati scelti come capitale europea e certo in città c'è tanta soddisfazione, abbiamo avuto questo evento bellissimo il 3 febbraio con il Presidente della Repubblica e il capitale della vita notturna non lo sarebbe mai diventata, capitale del volontariato sì perché insomma è il nostro modo di essere. E sono anche numeri importanti quelli che certificano questo impegno che è il giusto riconoscimento appunto una persona su cinque a Trento fa volontariato e in città sono attive circa 660 associazioni, un numero enorme per una città di medie dimensioni sì noi abbiamo il volontariato tradizionale, gli alpini, in Trentino abbiamo una tradizione ereditata da quando eravamo parte dell'impero austro-ungarico per cui abbiamo dei vigili del fuoco volontari che esistono in ogni comune, a Trento abbiamo più di 10 corpi che fanno parte integrante del sistema di protezione civile per cui quando ci sono calamità oltre i vigili permanenti oltre il sistema della protezione civile presente in tutta la penisola noi contiamo su un esercito nella città di Trento di 500 vigili del fuoco volontari ma sono persone formate, attrezzate e poi abbiamo tante esperienze contemporanee, innovative e sono questi parti di collaborazione per la gestione dei beni comuni quindi sono gruppi di cittadini, di cittadini attivi che possono gestire uno skate park, una biblioteca di quartiere, degli orti urbani in alcuni casi sono associazioni vere e proprie, in altri sono gruppi formali di cittadini che in accordo con l'amministrazione fanno del volontariato per intervenire in quella dimensione che non è quella del pubblico inteso come comunale non è nemmeno quella del privato che è mio e che segna un confine di proprietà ma proprio gestione dei beni comuni Allora ritorniamo a sabato 3 febbraio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima la regia appunto ci ha regalato qualche scatto che abbiamo tratto appunto dal sito della città di Trento e in quell'occasione Mattarella ha definito i volontari un antidoto alla rassegnazione, un esempio per la politica che sempre più spesso si fa intimorire dalla vastità e dalla complessità delle questioni del nostro tempo Che giornata è stata quella la presenza di Mattarella, Sindaco? Eravamo emozionatissimi, anche un po' preoccupati perché quando arriva il Presidente della Repubblica e che succeda proprio tutti i giorni c'è la voglia che le cose vadano bene e per fortuna tutto quanto è andato come doveva anche perché su questo ringraziamo tantissimo il Presidente è lui stesso che ci ha stimolato a non fare un evento con l'establishment, con pochi intimi ma abbiamo proprio deciso di coinvolgere i volontari per cui nel nostro parattrito dello sport c'erano 2500 persone 1500 volontari ed è stato proprio emozionante perché c'erano i volontari in divisa c'erano quelli dei gruppi informali, c'erano degli studenti e tutti quanti, ecco, quello che io ho sentito come ritorno è stata questa grande emozione proprio del senso di appartenenza legato al lavorare assieme per il benessere della comunità e le parole di Mattarella sull'importanza della solidarietà e quando ha definito la città di Trento una potenza della solidarietà beh, insomma, sono stati il riconoscimento più bello Anche perché l'Italia è un paese che vanta una delle protezioni civili che poi è anche un'espressione del volontariato più efficienti al mondo ce lo riconoscono in tanti ed è un motivo di vanto e proprio per questo motivo è più che mai necessario prendendo spunto proprio dalle parole del Presidente della Repubblica promuovere e sostenere il volontariato come un catalizzatore di cambiamenti positivi Ecco, Sindaco, la sua opinione da questo punto di vista secondo lei accrescere il volontariato il fatto che le persone si mettano a disposizione gratuitamente l'una dell'altra può arrivare a farci, come dire, percepire anche un punto di svolta diverso per il nostro paese, per la nostra nazione? Io credo che noi dobbiamo partire da queste energie che ci sono perché il volontariato è una grande componente della democrazia cioè questi cittadini attivi costruiscono la democrazia perché poi volontariato è azione ma è anche riflessione, dibattito e costruzione di politiche tra l'altro è anche molto importante non pretendere che i volontari siano sempre acquiescenti negli interventi che abbiamo avuto il 3 febbraio alla presenza del Presidente della Repubblica c'è anche chi tra i volontari ha stimolato, ha criticato la politica e ha fatto bene perché a noi non servono volontari obbedienti, a noi servono appunto cittadini attivi e quello su cui poi noi stiamo insistendo molto è questo paradosso positivo noi verifichiamo che chi fa volontariato non solo dà felicità agli altri ma è più appagato e più felice come persona e quindi diciamo ai volontari di farlo per la comunità, di farlo per la democrazia ma in definitiva di farlo anche per se stessi perché sia cittadini un po' più felici è bello, è molto bello quello che dice Sindaco noi la ringraziamo di cuore per essere stato con noi questa mattina per essersi ritagliato 10 minuti da dedicarci un'agenda densa di impegni grazie davvero di cuore e buon anno del volontariato alla città di Trento grazie a voi e complimenti per tutto quello che fate grazie, grazie Sindaco tra l'altro Sampiola Pietrelcina è il patrono del volontariato Paola dunque da questo punto di vista è davvero significativo per noi parlarne poi anche con un'espressione così alta la capitale europea insomma in tutto italiana poi è davvero un motivo di vanto tutto italiano permetteteci una punta di orgoglio da questo punto di vista allora noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi riprendiamo con la rubrica di Don Francesco Armenti dritto al cuore e siamo alla parte conclusiva del nostro programma grazie a tutti grazie a tutti